territoriali e che abbracciano al contempo molti ambiti di intervento. Un provvedimento che secondo noi di Sinistra Italiana presenta le tipiche caratteristiche dei decreti-leggi omnibus viziati da molteplici profili di incostituzionalità e per questo motivo il gruppo di Sinistra Italiana e Sella ha appunto presentato una pregiudiziale di costituzionalità. Un provvedimento che nonostante le modifiche approvate in sede referente non migliora sotto il profilo tecnico e della compatibilità costituzionale, ma soprattutto finisce con il rappresentare l'ennesima occasione persa per rispondere attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza alle istanze costantemente manifestate dai territori e dal mondo del lavoro e della produzione. Tra gli emendamenti più positivi e approvati voglio citare la sospensione dell'addizionale sui diritti d'imbarco, sui voli aerei. Si era arrivati ad una tassa di 9 euro che penalizzava fortemente il trasporto aereo, soprattutto nei casi di compagnie low cost che privilegiano una politica di biglietti molto bassi. E su ogni biglietto pagare una tassa di 9 euro non è sicuramente un modo per incentivare il trasporto aereo, soprattutto per le fasce sociali meno abbienti. Con questo provvedimento, per amor di verità, si sarebbe potuto fare finalmente chiarezza sulla criticità dei conti delle province, anche a seguito dei tagli iniqui e insostenibili imposti dal comparto attraverso varie manovre di finanza pubblica, visto che nel 2016 la somma tra la manovra imposta dalla legge di stabilità e i tagli perpetrati negli anni precedenti, ha portato le 76 province a statuto ordinario a versare allo Stato un contributo complessivo pari alla cifra astronomica di 1 miliardo e 645 milioni di euro. Di fronte a questo stato di cose, le uniche soluzioni che questo provvedimento prospetta si sostanziano unicamente in talune disposizione urgenti, tese alle province, tese a far chiudere i bilanci 2016 delle province in equilibrio, senza che però si possa procedere per l'ennesima volta con la via ordinaria. Questa è infatti in buona sostanza la motivazione della misura prevista dal provvedimento in esame di esclusione delle province dal rispetto del saldo finanziario in occasione del bilancio di previsione, di modo tale da poter utilizzare tutti gli avanzi disponibili per coprire il taglio, altrimenti nessuna delle province sopra richiamate avrebbe potuto chiudere i bilanci correttamente. Sempre in riferimento alla provincia è stata anche prevista una misura di esclusione delle sanzioni del patto di stabilità 2015, che sicuramente appare condivisibile, ma è al tempo stesso assolutamente parziale e non risolutiva, anche alla luce del fatto che, come richiesto da specifiche proposte di sinistra italiana, occorreva intervenire per cancellare tutte le sanzioni previste, sia quelle finanziarie sia quelli incidenti sulla spesa e il personale. Ed è del tutto evidente che il pacchetto di misure contenute in questo provvedimento, oltre a dimostrare un carattere meramente straordinario ed emergenziale, presentano come unico scopo quello di permettere a quanti più enti possibili l'approvazione di bilanci in equilibrio per il 2016. Pur tuttavia il Governo dovrebbe sapere ed essere consapevole che tutto ciò è intollerabile, perché è indecente continuare a proseguire con questa modalità già che le risorse destinate ad assicurare i servizi essenziali sui territori si stanno riducendo giorno dopo giorno al di sotto di ogni possibile ragionevolezza. Non è un caso che anche durante la discussione del DEF 2016 sia stato chiesto con forza da molti gruppi parlamentari di azzerare il taglio aggiuntivo per il 2017 previsto a carico del comparto, altrimenti gli enti di aria vasta non disporranno di risorse sufficienti a coprire la spesa per funzioni fondamentali come l'assistenza ai disabili, la manutenzione delle scuole e delle strade. Anche e soprattutto per queste ragioni, il gruppo di sinistra italiana ha proposto di assegnare alle 76 province delle regioni a statuto ordinario un finanziamento di almeno 124 milioni di euro, che non a caso corrisponde all'ammontare dello squilibrio del comparto attestato dal Governo, al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali previste dalla legge 56-2014. Ma gli emendamenti approvati, anche grazie al contributo di sinistra italiana, ne stanziano però molti, molti di meno. Così come è stato proposto di modificare e correggere al comma 656 della legge di stabilità 2016, assegnando i 100 milioni per le strade provinciali a valere sui fondi ANAS direttamente dagli enti, in modo da rendere immediatamente disponibili queste risorse già stanziate dallo Stato ai fini dell'approvazione dei bilanci entro il 31 luglio prossimo, come era nell'intenzione del Parlamento e nello spirito della non attuata disposizione della legge di stabilità del 2016. Volevamo prevedere la cancellazione di tutte le sanzioni, non solo di quelle di ordine finanziario previste a carico delle province, che abbiano sfiorato il patto di stabilità 2015. Purtroppo, di tutte queste iniziative promosse da sinistra italiana è stato accolto solo qualcosa, ma troppo poco, dal testo finale che oggi approda in aula. Inoltre, in linea con quanto appena rilevato sulle province, non si può non evidenziare come anche gli interventi adottati in relazione ai comuni e alle città metropolitane appaiono largamente insufficienti e inadeguate rispetto alle necessità. Come è noto la situazione generale e finanziaria dei comuni e delle città metropolitane, anche per l'anno 2016 continua a scontare gli effetti derivanti dalle precedenti manovre, dai continui cambiamenti normativi delle norme finanziarie, ordinamentali e contabili, dalla molteplicità di vincoli e obblighi che gravano sull'organizzazione e gestione dei comuni, nonché dalla incertezza interpretativa di numerose norme, sfociate in molteplici pronunce giurisprudenziali che spesso rendono assai difficile e complicata l'assunzione di decisioni chiare. Sotto tale profilo, come gruppo di sinistra italiana, siamo intervenuti per chiudere definitivamente la questione degli oneri per le spese di giustizia a carico dei comuni che purtroppo si trascina da molti anni. Abbiamo chiesto che un parziale ristoro del gettito non acquisito dai comuni già considerati montani e collinari del 2015 per l'Imu dovuta sui terreni agricoli. Con diversi ementamenti abbiamo cercato di risolvere l'annoso problema dell'assoggettamento delle piattaforme petrolifere al pagamento dell'ICI e dell'Imu, alla luce dei principi giusti enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 3618 del 24 febbraio 2016. Ma il nostro emendamento non è stato giudicato inammissibile, ma soprattutto siamo intervenuti al fine di attenuare le sanzioni derivanti dallo sforamento del patto di stabilità per l'anno 2015, non solo per le province, come in parte previsto dal provvedimento in esame, come già detto, ma anche per i comuni, intervenendo puntualmente sulla disciplina del dissesto e del predistesto, nonché sulla rinegoziazione dei mutui e dei comuni. Consegno con l'autorizzazione della Presidenza la parte restante del mio intervento e mi limito alle considerazioni finali. In conclusione, quello che emerge in modo chiaro e evidente è che questo provvedimento, anche alla luce delle modifiche approvate in Commissione, rappresenta un coacervo di disposizioni quanto mai eterogenee e confuse, che piuttosto che affrontare in modo maturo e concreto le esigenze strutturali degli enti territoriali, sembrano configurarsi come uno strumento attraverso il quale il Governo interviene per regolare aspetti non irrilevanti della vita istituzionale e gestionale degli enti territoriali, al ridosso della pausa estiva e prima dell'avvio della sessione di bilancio, bypassando la tempistica e la disciplina previsti dalla proposta di legge di riforma del bilancio dello Stato, attualmente all'esame del Senato, che ha individuato nel nuovo documento unificato di bilancio lo strumento fondamentale attraverso il quale procedere a tale regolazione. Questo Governo avrebbe potuto porre da tempo un punto fermo sulla tormentata materia della finanza locale, oggetto di continui e disorganici interventi, ma non l'ha fatto. Per questo il gruppo di sinistra italiana voterà contro la conversione in legge di questo decreto legge. Grazie. Il Governo intende intervenire e si riserva. È iscritto a parlare. A questo punto l'onorevole Coscia, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Noi diamo ovviamente un giudizio positivo di questo decreto che finalmente affronta tutta una serie di problematiche che riguardano gli enti territoriali, in gran parte di attenti locali, ma non solo. Voglio solo soffermarmi su due articoli che sono in modo particolare di interesse della Commissione Cultura, l'articolo 17 e l'articolo 24. L'articolo 24 affronta, introduce una serie di norme molto importanti che sono finalizzate a semplificare da alleggerire appunto i punti normativi per consentire veramente alle fondazioni lirico-sinfoniche che si sono seriamente impegnate di raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio nel 2018. Il lavoro della Commissione bilancio poi è stato molto positivo perché ha consentito ulteriormente di arricchire questi aspetti e in modo particolare ha anche introdotto una norma di salvaguardia per il lavoro che il Ministero ha fatto nel piano di riparto del Fondo Unico dello Spettacolo che ha avuto un percorso accidentato per una sentenza che ha emesso il Tar del Lazio. Questa misura aiuta a salvaguardare appunto questo lavoro e soprattutto a erogare i finanziamenti agli enti interessati. Il Presidente mi consenta di approfondire un po' di più l'articolo 17 che riguarda la possibilità per i comuni di fare realizzare un piano straordinario triennale di assunzione finalizzato finalmente a dare una risposta positiva a migliaia e migliaia di lavoratrici, perché di lavoratrici si tratta, degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali. È stato questo, tra l'altro, lei ricorderà, Presidente, oggetto anche di argomenti di campagna elettorale.